Cefalee, emicranei, vertigini e lombosciatalgia sono alcuni dei disturbi che possono essere trattati con la kinesiologia medica. Uno dei presupposti fondamentali della diagnosi kinesiologica è che se una parte del nostro corpo si ammala, quel dolore è sintomo di un malessere diffuso che investe integralmente il corpo del paziente. A parlarne in un incontro organizzato dall'Associazione Il Vaso di Pandora è stato il dottor Antonio Dastore, medico odontoiatra, kinesi o posturologo, già specialista in ortopedia e traumatologia. La kinesiologia è una disciplina medica di tipo diagnostico piuttosto che terapeutico che aiuta gli operatori sanitari, i medici in particolare, a risalire alle vere cause della malattia non studiando solamente il sintomo ma la vera origine da cui il sintomo prende lo spunto. Molte le applicazioni di questa disciplina in ambito sportivo, Leo Messi e Ugo Campagnaro sono alcuni degli atleti illustri che fanno oggi ricorso a rimedi kinesiologici. Uno su tutti che è Leo Messi, un mio collega di Udine, un kinesiologo, rieducandolo a mangiare secondo criteri appunto di tipo kinesiologico. Lui ha avuto una rinnovata performance fisica. Il campagnaro che ho visto fa uso di un bite colorato azzurro ha lo scopo di ottimizzare il funzionamento della catena muscolare che dalla bocca prende origine e che poi si districa fino ad arrivare anche agli arti inferiori.